Allora, io sono Laura Bozzi, giornalista, direttore del settimanale Vero, settimanale che diciamo tutte le settimane si occupa non soltanto ovviamente di cronaca rosa ma anche di dare spazio ai giovani per cui ogni settimana noi cerchiamo nel nostro settimanale di pubblicare interviste, insomma pezzi che riguardino i giovani emergenti e quindi questa manifestazione ovviamente capita come si dice a fagiolo perché ovviamente dà spazio molto ai giovani interpreti, ai giovani che vogliono lanciarsi nel mondo del web, poi del cinema, della televisione quindi insomma manifestazioni come queste io credo siano importanti soprattutto per dare ai più giovani la possibilità di cominciare a farsi conoscere, motivo per il quale insomma anche io nel mio piccolo con i miei collaboratori ogni settimana cerchiamo di dare spazio a quelli che sono i giovani emergenti anche perché giustamente quelli famosi sono già famosi e quindi hanno come dire si sono già fatti conoscere mentre i giovani, poveracci lo sappiamo, fanno fatica, fanno fatica anche perché non dimentichiamoci che il grosso limite oggi purtroppo è sempre la questione del budget per cui si hanno pochi soldi, questi pochi soldi devono essere investiti nel modo giusto, sicuramente il web da questo punto di vista è un ottimo punto di partenza, deve essere considerato un punto di partenza per poi ovviamente fare il grande salto di qualità e provare a spingersi anche in altri campi della comunicazione o comunque i campi artistici come possono essere appunto il piccolo schermo e il cinema. Un saluto a tutti i follower di Video Omnia e del Roma Web Fest.